Aumentano i contagi da coronavirus, oggi ne sono stati registrati ben 51. Caccia nelle aree contigue abruzzese, di fida agli ambiti territoriali di caccia da parte del WWF. Scuole, campagna, arrestiamo il Covid-19, consegnate le locandine da parte della Polizia. Ambulatorio per riabilitazione neurologica, è attivo con successo all'ospedale di Pescara. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Così come sta accadendo a livello nazionale, non c'è da stare tranquilli neppure in Abruzzo per i casi di contagio da coronavirus. Infatti, rispetto a ieri, si registrano 51 nuovi casi, di età compresa tra 2 e 93 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 477. Sono invece complessivamente 4.317 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.023 dimessi o guariti, più 4 rispetto a ieri, di cui 19 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 3.004 che hanno già risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, sono 817 più 47 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 192.553 test più 1.626 rispetto a ieri. 58 pazienti più 8 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 5 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 754 più 38 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi, 616 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 10 rispetto a ieri. 1019 in provincia di Chieti, più 8. 1838 in provincia di Pescara, più 11. 808 in provincia di Tenomo, più 20. E 33 fuori regione, questo dato è invariato. E 3 più 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E per quanto riguarda casi di positività al coronavirus, c'è una persona residente a Tagliacozzo, tra i 10 registrati in provincia dell'Aquila. A comunicarlo il sindaco Vincenzo Giovagnorio, che sottolinea come la persona positiva al covid-19 in stato di isolamento è monitorata dal personale medico dell'azienda sanitaria locale. Anche i contatti più stretti e le frequentazioni più prossime sono già state tracciate come da prassi e sono monitorate dalle autorità sanitarie. Questo secondo caso di persona residente nel territorio comunale, spiega il primo cittadino, l'iscontratta positiva al covid-19 non è da collegarsi al precedente di cui ho dato comunicazione lo scorso 23 settembre. Al momento, data la circoscrizione del caso e l'atteggiamento da parte dell'ASR, non si ritiene necessaria l'apertura del centro operativo comunale. A nome della cittadinanza tutta e dell'amministrazione comunale formulo i migliori auguri alla persona riscontrata positiva al covid-19 per un pronto ristabilimento in perfetta salute ed un ritorno alle ordinarie attività e frequentazioni. Si raccomanda a tutta la popolazione insistente sul territorio comunale di Tagliacolso, conclude l'osservanza delle disposizioni governative e sanitarie per il contenimento ed il fronteggiamento dell'epidemia da covid-19. Frattanto si è appreso che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus di un dipendente di Health Foundry di Avezzano. Si sta ora cercando di ricostruire i contatti per i monitoraggi del caso. In passato, nei primi mesi dell'emergenza coronavirus, c'era già stato un caso di un dipendente di Health Foundry positivo. Questo, dalle ultime ore, si somma al nuovo caso di possibilità che è stato riscontrato a Tagliacolso. E sono invece 16.763 i test sierologici eseguiti finora in Abruzzo sul personale scolastico nell'ambito del screening nazionale per contenere il contagio da covid-19. Lo comunica l'assessore regionale della sanità Nicoletta Veri specificando che rispetto alla scorsa settimana si registra un inclinamento di 1.662 esami. Nel dettaglio, nell'asla Avezzano sul Buonalacuila i test eseguiti sono stati 3.248 più 365 rispetto al dato di venerdì scorso. Nell'asla Lanciano-Vastocchieti 4.901 invariato. Nell'asla di Pescara 4.221 più 942. Nell'asla di Teramo 4.393 più 355. I test risultati positivi sono stati 118. 32 nell'asla Avezzano sul Buonalacuila più 2 rispetto a venerdì scorso. 37 nell'asla Lanciano-Vastocchieti invariato. 31 nell'asla di Pescara più 8. E 18 nell'asla di Teramo meno 1 per una rettifica. Per tutti sono scattati i protocolli di sicurezza e la contestuale presa in carico da parte del sistema sanitario regionale. Ancora due investimenti di Cervi avvenuti la notte scorsa sull'autostrada A25. In entrambi i casi lievi danni ai mezzi sono stati rilevanti da pattuglie della sottosazione autostradale di Prato-La Peligna e per fortuna senza nessun ferito. Intorno alle 23 di ieri l'impatto con un'autovettura è avvenuto a km 78 in direzione Roma e l'animale è riuscito a dileguarsi. Verso le 6.30 di oggi, a km 108 in una località Celano, direzione Pescara, un furgone ha travolto un giovane esemplare rimasto nella sede stradale, ferito, poi rimosso dall'asla territoriale. Negli ultimi giorni si è registrata una notevole crescita di investimenti o attraversamenti di reti viari e di Cervi. L'autunno è infatti la stagione degli amori che porta i maschi a spostarsi per accoppiarsi, specie nelle ore notturne. Il compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise richiama la massima attenzione nella conduzione di auto ed automezzi ed in particolare al rispetto dei limiti di velocità. Il WWF ha inviato ieri una diffida agli ATC, ambiti territoriali di caccia, presenti nelle territori dell'area contigua al versante abruzzese del Parco Nazionale d'Abruzzo. Si tratta degli ATC di Avezzano, Rovetano-Carsoli, Sulmona e Subbequano, perché si attivino al fine di evitare che siano ammessi nei propri territori cacciatori non residenti nell'area protetta e nell'area contigua. L'istituzione delle aree contigue è prevista dalla legge quadro sulle aree protette. La norma riconosce a questi territori un importante valore dal punto di vista della conservazione. Sono infatti aree cuscinetto, limitrofe ai parchi nazionali, fungono da corridoi faunistici e garantiscono una protezione maggiore per gli animali rispetto alle zone più lontane dei parchi grazie alla predisposizione di regolamentazioni che limitano il rischio di mortalità dovuto a cause antropiche. In particolare, nelle aree contigue è di fondamentale importanza far sì che l'attività venatoria sia limitata così come la norma nazionale definisce chiaramente ai suoi residenti. Una limitazione ancora più necessaria quando nei territori sono presenti specie dall'elevato interesse conservazionistico quali l'orso bruno marsicano. È noto infatti che la sfida per la conservazione dell'orso si gioca ben oltre le aree protette e si può vincere soltanto se si darà a questo animale la possibilità di espandere e consolidare il proprio areale al di fuori dei parchi. La Regione Abruzzo, con la deliberazione di giunta del 2018 ha perimetrato l'area contigua e non può dimenticarsene nel momento della predisposizione dei calendari venatori. In quello 2020-2021 ne fa solo un veloce accenno mentre con una nota dell'11 settembre scorso il Dipartimento Agricoltura chiede agli ATC presenti nei territori dell'area contigua la ridefinizione del nuovo calico venatorio. Orgoglio e soddisfazione per il fatto di riportare oggi i nostri bimbi a scuola. Non è normale però che con un terremoto del 2009 si debba attendere il 2020 per vedere ricostruita una scuola. Un tema che abbiamo sollevato al Parlamento e dal Governo e che abbiamo riproposto anche oggi alla presenza della Vice Ministra. Le norme devono cambiare, permettere nelle condizioni le amministrazioni di dare una risposta in tempo utile a tutte le lungaggini. Ci sono generazioni di studenti che non hanno conosciuto una scuola vera pertanto questo territorio deve essere risarcito. Altre sono già in cantiere. Mi fa piacere che la Vice Ministra abbia accolto la mia richiesta e preso l'impegno di lavorare affinché, entro fine legislatura, le scuole abruzzesi possano essere ricostruite o ristrutturate, messe a norma in particolare per la sicurezza antisismica, l'efficientamento energetico e nel rispetto delle norme per il distanziamento in presenza di una pandemia come quella del Covid. Lavoreremo duramente per raggiungere questo obiettivo. Sono parole del Presidente della Giunta regionale intervenuto ad Arischia alla cerimonia per l'inaugurazione della Scuola dell'Infanzia e Primaria insieme alla Vice Ministra dell'Istituzione, al Vice Presidente Emanuele Imprudente, al Sindaco dell'Aquila, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, alla Dirigente Scolastica e all'Assessore all'Ambiente e ai Parlamentari intervenuti. Una occasione dalla forte valenza simbolica, una ripartenza doppia per gli alunni della frazione, visto che si tratta del primo edificio scolastico ad essere completamente ricostruito dopo il sisma che ha colpito l'Aquila nel 2009. Si è svolta nel piazzale antistante dell'Istituto di Istituzione Superiore d'Aosta, sito in località Colle e Saponi all'Aquila, la cerimonia di consegna della locandina realizzata per la campagna informativa Arrestiamo il Covid-19, promossa dalla Questura dell'Aquila per sensibilizzare i giovani all'osservanza delle vigenti disposizioni anticontagio. Per l'occasione, il Questore dell'Aquila, Gennaro Capoluongo, alla presenza del Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Antonella Tozza e Massimiliano Nardocci, dei rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno contribuito alla realizzazione della campagna, dell'autore delle vignette della vicepresidente dell'Istituto ed una rappresentanza di studenti, ha proceduto alla consegna, in maniera simbolica, della locandina contenente delle vignette di personale indivisa della Polizia di Stato, raffiguranti le regole di buon comportamento da osservare per garantire sia la tutela sanitaria che la sicurezza di ognuno. Analoga cerimonia, si è tenuta anche nella città di Avezzano, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Maiorana e di Sulmona presso il Liceo Artistico Mazzara a cura dei dirigenti dei locali commissariati di pubblica sicurezza. L'iniziativa è stata proposta a livello regionale coinvolgendo i questori di Chieti, Pescara, Termo e di vertici provinciali del Ministero dell'Istruzione che con entusiasmo hanno aderito al progetto. La Polizia di Stato, a dimostrazione di una concreta vicinanza alle istituzioni scolastiche ed in particolare agli studenti, a cui il messaggio è rivolto, ha inteso fornire un utile supporto che accompagni, in questo particolare periodo emergenziale, i giovani nelle difficoltà del vivere quotidiano. La fase pandemica per il contenimento del virus Covid-19 ha prodotto ed aumentato in tutti i settori della pubblica amministrazione il lavoro per frenare la diffusione del contagio e in tempi distrettissimi, in osservanza alle norme emanate a livello governativo, come accade per le scuole, l'adeguamento delle infrastrutture per accogliere gli alunni in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. La provincia dell'Aquila, dichiara il consigliere delegato all'edilizia scolastica dell'area marsica, Gianluca Alfonsi, ha attivato immediatamente tutte le procedure ed avviato i lavori di adeguamento nei pressi di nostra competenza, come decretato dal presidente della provincia il 27 agosto scorso e stanziato comprensivamente circa 300 mila euro per le scuole della marsica, opere in larga parte eseguite o in corso di conclusione. Tutti i lavori sono stati concordati grazie alla disponibilità e collaborazione dei dirigenti scolastici ed attuati attraverso il nostro settore dell'edilizia scolastica dal dirigente architetto Stefania Cattivera. Per questi motivi non sono stati rilevati o segnalati particolari problemi con il rientro degli alunni nelle rispettive scuole riportando finalmente alla normalità la frequentazione delle lezioni in presenza. Rimane in ogni caso costantemente aperto un tavolo istituzionale tra la provincia, regione e l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ma soprattutto con i dirigenti scolastici delle nostre scuole per qualsiasi esigenza o necessità per affrontare le problematiche relative all'emergenza sanitaria da coronavirus. Dal 5 ottobre prossimo nel territorio dell'Aquilano sarà attivo un ambulatorio di riabilitazione neurologica che si aggiungerà all'attuale gamma di visite e prestazioni offerte dall'unità operativa di riabilitazione territoriale diretta dal dottor Antonello Bernardi. È una novità importante perché riguarda una fascia di popolazione affetta da delicate problematiche causate da patologie come Ictus e Parkinson che rendono necessario sottoporre il paziente a programmi specifici di recupero delle funzioni. Dal primo lunedì di ottobre pertanto gli utenti potranno fissare tramite il CUP visite ed appuntamenti con lo specialista per essere valutati e successivamente inseriti in specifici percorsi di riabilitazione. L'attivazione del nuovo servizio è stata resa possibile da una convenzione siglata tra l'ASLU Navezzano-Sulmono all'Aquila e l'Università dell'Aquila. La riabilitazione neurologica farà capo alla professoressa Irene Ciancarelli dell'Ateneo del Capologo Abruzzese che è anche presidente del corso di laurea in fisioterapia. Il ricorso a spiccate professionalità rientra nell'ambito della consolidata collaborazione tra Ateneo ed azienda sanitaria finalizzata a migliorare la qualità delle prestazioni e ad ampliare il ventaglio delle attività. La riabilitazione neurologica si avvale di una serie di figure come fisioterapisti, logopedisti, psicologi e terapisti della neuropsicomotrocità dell'età evolutiva che lavoreranno insieme nel programma di recupero dei pazienti. Il coordinamento dell'attività degli operatori sanitari è affidato a Rossella Gentile. Il nuovo servizio verrà assicurato nei comprensori degli attuali tre centri di riabilitazione con le mangio, pizzole e standamento nei vestini. L'introduzione delle nuove prestazioni riveste grande importanza perché sul territorio si registra un alto numero di bambini, adolescenti ed adulti alle prese con problemi causati da malattie traumatiche o degenerative come ictus cerebrali, Parkinson e sclerosi multipla. Martedì prossimo 29 settembre all'ora 17.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni di Avezzano per l'invocazione dello Spirito Santo nell'imposizione delle mani del Vescovo Monsiglio Pietro Santoro sarà ordinato diacono permanente Alberto Marchionni. Alberto, avezzanese, classe 50, svolge il suo servizio presso la parrocchia di San Giovanni di Avezzano. è sposato con Rita ed ha tre figli Alessia, Chiara e Marco e sette nipoti. In diocesi operano già cinque diaconi permanenti Tonino Masci, Leo De Foglio e Valentino Nardone ordinati nel 1986 dall'allora vescovo Viaggio Terrinoni. Nazareno Moroni e Vincenzo Cipollone ordinati nel 2006 e 2002 dal vescovo Lucio Renna. Il diacono contribuisce a far sì che la chiesa sia veramente chiesa luogo di comunione e di carità comunità dei figli di Dio che annunciano e testimoniano la lieta notizia della salvezza universale. Il diacono con il sacramento dell'ordine viene inserito tra i membri del clero e svolge apostolato in tre ambiti nella liturgia con specifici compiti sull'altare proclama il Vangelo e su delega tiene l'omelia nella catechesi con l'evangelizzazione nella carità con il servizio sacramentale però può celebrare solamente la liturgia del battesimo benedire le nozze ed accompagnare alla spoltura i defunti. Torna a riunirsi l'assemblea legislativa regionale dopo il referendum costituzionale ed il primo turno delle amministrative. Il consiglio ha convocato per martedì 29 settembre alle ore 11 nella sala ipogea del palazzo dell'emiciclo per esaminare il seguente ordine del giorno. Interpellanza recante ambulanza donata all'ASL 1 Avezzano sul Mono L'Aquila dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle interpellanza recante adempimenti di regione ed arte per consentire la caratterizzazione e conseguente bonifica della discarica di bussi interpellanza recante audit di cardiocirurgia nel presidio ospedaliero Santissima Annunziata di Chieti interpellanza recante Covid Hospital ex palazzina IVAP interpellanza recante affidamento esterno dei sistemi informativi per la presa in carico e per la gestione dell'emergenza coronavirus interpellanza in fila recante provvedimenti del governo regionale in merito all'aumento del numero di contagi da coronavirus in Valle Perigna si è tenuta questa mattina venerdì alle 11 presso la direzione generale della ASA di Pescara la conferenza stampa di presentazione dell'intervento mini-invasivo di embolizzazione prostatica l'embolizzazione è una tecnica mini-invasiva di radiologia intervennistica che permette di occludere le arterie iniettando al loro interno tramite un piccolo tubicino catetere materiali appositamente studiati come spirali colle microsfere di solito si occludono le arterie perché sono rotte o perché hanno una parte debole o si potrebbero rompere con conseguenti aneurismi è possibile anche occludere arterie che nutrono alcuni tipi di tumore per poi toglierli in riferimento la tecnica di embolizzazione prostatica è stata appunto dal professor Carnevale a San Paolo in Brasile è pubblicata per la prima volta nel 2010 da allora è stata migliorata ed attualmente ne beneficiano migliaia di pazienti per quanto in Italia sia ancora relativamente poco diffusa negli ultimi anni sono emerse alcune nuove indicazioni all'embolizzazione l'ipertrofia prostatica le emoroidi e l'artrosi il 28 agosto scorso grazie all'utilizzo di questa tecnica è stato trattato il caso di un paziente di 53 anni che affetto da ipertrofia prostatica benigna e costretto a portare da parecchi mesi il catetere urinario a permanenza si è rivelato rivolto al reparto di urologia dell'ospedale di Pescara diretto dal dottor Renzetti dopo la valutazione del caso il paziente è stato sottoposto all'intervento di embolizzazione prostatica il trattamento svolto in anestesia locale è durato poco più di un'ora e dal termine il paziente è tornato al reparto di urologia dal quale è stato dimesso dopo pochi giorni di osservazione con un notevole beneficio relativamente ai sintomi e senza catetere a permanenza con questa buona notizia abbiamo terminato prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione della telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che hanno naturalizzato nel corso degli ultimi anni grazie ad Arisenterci grazie Grazie a tutti.